Trieste ha una tipologia particolare da un punto di vista sociologico di persone, siamo la città con la più alta percentuale di anziani d'Italia, questo ovviamente costituisce un tipo di problema perché è giusto che una pubblica amministrazione si confronti anche con la potenziale utenza di fronte alle spese, d'altro canto senza le iniziative non si può nemmeno educare questo tipo di utenza.